Oggi si segue il Napoli Primavera Ciao, benvenuti e bentornati su Renata Siamo qui oggi con Uovi E oggi ragazzi video importantissimo Perché oggi c'è una partita importantissima per il Napoli Primavera Napoli Genova che è il ritorno di play out del campionato Primavera appunto all'andata è terminata 2 a 2 Oggi allo stadio di Cercola Gli azzurrini si giocheranno in tutto per tutto Per non retrocedere Quindi partita veramente importante Io andrò allo stadio, li andrò a sostenere da vicino Prima di entrare allo stadio ragazzi vi chiedo di lasciare tantissimi mi piace Veramente ve lo chiedo col cuore Supportiamo questo contenuto Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale, è tutto gratuito Attivate la campanellina, mi supportate Dai che stiamo raggiungendo un bello obiettivo Manco me lo aspettavo E faremo quindi uno speciale, magari un video speciale Magari scrivetemi qui sotto nei commenti appunto Quale video speciale vorreste per il primo bel traguardo di questo canale Vi ringrazio veramente per il sostegno e il supporto che mi state dando Soprattutto scrivetemi qui sotto nei commenti Forza Napoli, sempre Perché magari per tutti sarà finita la stagione del Napoli Sì, magari quella dei grandi Però ci sono i piccini che oggi hanno bisogno di noi Quindi adesso andiamo allo stadio Vi porto con me a sostenerli Ragazzi sono arrivato pure lo stadio Tra l'altro ci facevo caso, proprio prima Ad una coincidenza Come è successo per il Napoli dei grandi In Serie A Sta succedendo anche per il Napoli dei piccoli Che probabilmente potranno mandare Nella primavera 2 Proprio il Genoa Mi dispiace Però dobbiamo guardare in casa nostra ragazzi Bisogna salvarci Ragazzi fate il vostro pronostico Quanto finisce oggi? 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 0 a 3 Il mitico ca... Come 0 a 3? Petro cediamo? No, no, è importante Tu che dici? Grazie Grazie a una foto Anto, un pronostico Me lo devi Uno fisso Uno fisso Sì Aspetta Un pronostico Dai, 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 dai Dai, 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 dai Bella Oh, è se fanno Quei secondi a dormire Bravo Mmm, un gol, un bel Charlono E negoziano Eh,ikk dismissile 01-16-18-15-15-15-30-15-18-15-28-15-15-30-17-19-19-us17-19-2012-2012-60-25-20-16-2015-19-22-24-15-21-19b-2012-15-バ Königna stesso non siamo partiti alla grande mamma mia mamma mia no mamma mia vai 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 non è rigore comunque finisce qua il primo tempo 0 a 0 a noi sta bene ma ragazzi poca roba e secondo me deve cambiare qualcosa secondo me ragazzi cosa deve cambiare ragazzi non siamo aggiorando però non siamo aggiorando adizia portare la pesce dai 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 Nooo! Nooo! Mamma mia! Nooo! Nooo! Isak! Dai 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 dai! Nooo! Nooo! Ma è una bella spizzata lì tesi! Dai che siamo pronti ad esultare! Nooo! Nooo! Uno qui! Sacco! Sacco! Dai! Dai! Andiamo! Dai! Sotto dentro! Ehi! Grande Sacco! Bella con lì! Ma che sei buono! Che sei buono! Ooooo! Dai 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 dai! Passiamo nella dana! Oh! Nooo! Dai dai ci siamo ora! Dai dai! Eh ragazzi! Oh! E' rigore! E' rigore! Grazie a tutti! Grazie a tutti i tifosi del Napoli! Grande! Grazie a tutti! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Un giorno alimprovviso! Grazie a tutti! Ale, 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 ale! E' tutto bene quel che finisce bene ragazzi, meno male, meno male, abbiamo vinto 2-0 tra l'altro con parata sul rigore di Dasiak, restiamo in serie a primavera. Spero che questo video vi sia piaciuto, ho portato quante più cose possibili in questa reaction dal vivo allo stadio, tanti ragazzi infatti ci tenevo a ringraziare per il grande affetto che ogni volta mi dimostrate, veramente vi voglio bene. Spero vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E sempre Forza Napoli!